Insieme a Buffon, Zemaria, Turam, Cannavaro, Benarivo, Crippa, grande avventura europea e quindi è un... Pradella e Marronaro in Serie A si sono in... Sulla sua tre quarti il Bologna pronto a rilanciare, c'è l'anticipo di Cannavaro. Al polo il rinvio di Sterkele, questa Marocca, c'è l'ata Cannavaro. Faceva riferimento Fulvio, Pavone e Paramatti devono anche marcare. Anderson avanza Pavone e chiamava... Che ci facesse... ecco aspettiamo l'azione... Che ci facesse di... E comunque un esterno destro per un altro, esce Pavone dentro a Daniele Carnasciali, anche lui con esperienza in maglia azzurra. Prima convocazione a Tallin contro l'Estonia. L'esordio invece nel dicembre del 94 contro Senzini. Baggio prova subito il destro! E' un errore super gol! Che gol! Quello di Dino Baggio dalla distanza, potente e preciso il farmare a doppia. Beh, insomma qua bisogna alzarsi ed applaudire perché è veramente una splendida esecuzione. Guarda, un gol veramente meraviglioso. Tocco corto verso Marocchi che va in verticale. Callon attaccato con decisione e con successo da Cannavaro. Bologna... E' un Bologna che sta cercando soprattutto... A proposito di grandi giocatori e di grandi appuntamenti, veramente da non perdere. Non dovete perderlo mai, la più la difesa, il terzo migliore attacco. Tutti i numeri insomma sono a favore della squadra di Ancelotti. Soprattutto in virtù...